Dieci percorsi ad anello della lunghezza dai 4 ai 20 chilometri per riscoprire sentieri e bellezze naturali di Briosco e dei territori della Brianza. È nata così la guida Cammina Briosco presentata a Villa Lorenzo di Capriano ad Appassionati e Curiosi, una guida cartacea con supporti digitali che permette di scoprire percorsi, mappe cartacee e gps, foto, approfondimenti audio e curiosità da scoprire durante i cammini sui sentieri del territorio. Non si limita a evidenziare i tratti di sentiero già noti, ma in realtà cerca di raccordare questi sentieri in dieci itinerari che toccano naturalmente il territorio di Briosco, ma vanno a sconfinare anche su quasi tutti i comuni confinanti, da Giussano, Caratebrianza, Renate, Vedugio, eccetera. È una guida che riteniamo praticamente interessante perché è la prima volta che sul territorio di Briosco viene realizzata una guida di questo tipo. Dal torrente Bevera a Villa Beldosso, passando per Fornaci, sono tanti beni storici, artistici e naturalistici che gli escursionisti troveranno sul loro percorso, potendone scoprire tutti i dettagli accedendo ai QR code contenuti nella raccolta. Un progetto ideato dall'associazione Enjoy Briosco che ha fatto della valorizzazione del comune Brianzolo e del territorio il suo scopo principale. È una guida che ha l'obiettivo appunto di permettere alle persone di scoprire il nostro territorio, del comune di Briosco e di intorni, di poterne usufruire al meglio attraverso i suoi sentieri, ma non solo perché nella nostra guida troveremo tanti approfondimenti anche sulle ville, le cascine, tutti i punti più importanti, i punti di interesse più importanti del nostro territorio.